Ilba e Tav. Ma sulla Tav c'è scritto nel programma che come altri... No ma ragazzi, leggiamo quello che c'è scritto. Alcuni grandi progetti che nascono tempo addietro andranno riesaminati, non da soli se coinvolgono anche altri paesi, da nessuna parte c'è scritto che vengono bloccati i lavori e i cantieri. Quindi alcuni grandi progetti sono fondamentali e andranno avanti, alcuni possono essere ridiscussi.